amici dei teri motori che gran premio d'argentina sono è stata una giornata difficile una giornata abbastanza brutta perché siamo tornati indietro di due anni e non si parla non si parlerà molto della vittoria calcrazio davanti a joan zarko alex rings e jack miller con dovizioso sesto di annone ottavo petrucci decimo ma si parlerà soprattutto secondo me a questo punto giustamente di quello che è successo di nuovo tra rossi e marquez ma prima ci sono un sacco di precedenti cominciamo dalla partenza pista umida bagnatina miller come in prova è l'unico che si schiera con le slick quando la pitlane è chiusa quindi i piloti non possono più cambiare moto ricordiamo che gli assetti tra asciutto e bagnato sono molto diversi quello da sotto è molto più rigido quello da bagnato molto più morbido non basta cambiare le gomme sulla griglia perché le cose poi vadano bene quindi sono tutti rientrati lasciando il solo miller con la sua scelta che era quella giusta sulla griglia di partenza è stata ritardata la partenza e il regolamento avrebbe così obbligato gli altri piloti a partire dal pitlane però effettivamente se 23 piloti su 24 sbagliano la gomma e poi partono tutti ammucchiati dalla pitlane larga 4 5 metri in 23 senza una procedura di partenza le distanze eccetera è molto pericoloso soprattutto poi con una pista in fila perché c'era la riga asciutta si poteva girare con le slick e però era pericoloso fuori traiettoria insomma la direzione corsa si è inventata una soluzione che salvasse capra e cavoli e come quasi sempre in queste condizioni si scontentano un po tutti perché per salvaguardare la scelta azzeccata di miller lo hanno lasciato nella sua casella prima quella della pole position straordinaria di sabato poi hanno arretrato tutti di tre o quattro file sulla griglia per dare un po' di vantaggio a miller una cosa mai vista non prevista da regolamento insomma potevano rifare la partenza e cavoli di miller oppure far partire miller e dopo dieci secondi gli altri non lo so forse c'era una soluzione migliore certo che far partire tutti dalla pitlane era troppo pericoloso quindi vabbè alla fine questo è stato il male minore poi sulla griglia di partenza a manche se si spegne la moto la spinge la rimette in l'aria accende e poi torna dietro e si riposiziona facendo anche una manovra spingendo dietro la moto sulla sua casella allora il regolamento dice che quando un pilota spegne la moto sulle di partenza viene portato fuori e basta riparte casomai con l'altra moto dai box a marquez nessuno ha avuto il coraggio davvero c'è andato un uomo delir da un altro non sapevano cosa fare cosa dire forse fosse stato un pilota della moto 3 o della moto 2 avrebbero preso e cacciato fuori invece era mark marquez e insomma gli è stato consentito di prendere il via dalla sua posizione poi è stata combinata a marquez una penalizzazione cioè di un rai true per quella partenza che non avrebbe potuto e dovuto fare semplicemente in quella in quel modo e lui ha satanato come sempre soprattutto in queste condizioni sapendo di avere una superiorità manifesta in argentina ma sia sul bagnato che sull'asciutto ma senza pole position e con questo problema al via e il rai true ha cominciato a guidare come una bestia ha buttato fuori alex spargarò mandandoli addosso gli è stato dato l'obbligo di restituire una posizione quindi ha perso ulteriore tempo e poi ha ripartito girava un secondo secondo e due più forte di tutti quindi avrebbe potuto comunque cogliere un buon risultato quinto che poi è quello che alla fine è arrivato però poi è stato penalizzato di 30 secondi perché poi ha buttato fuori pure valentino rossi all'ultima curva in un modo veramente esagerato cioè gli è entrato dentro gli ha dato una botta e l'ha buttato nel prato non si fa così allora tutto nasce da questo senso di impunità che secondo me marquez vive e inconsciamente perché non è mai stato redarguito a sufficienza né in 125 né in moto 2 né in moto gp per le sue esagerazioni allora valentino rossi addirittura ha detto che ha paura a correre contro mark martin perché non si sente tutelato dalla direzione gara dice che tutti sarebbero capaci di fare quelle cose lì esagerate cioè alzare la sticella del rischio più in là ma poi dopo cinque gare non correrebbe più nessuno che ci vuole il rispetto che si può sbagliare perché è capitato anche a lui è capitato a tutti ma non può capitare cinque volte sei volte in un weekend come effettivamente ha fatto marquez sia in prova ieri con con vignale se insomma ne ha fatto un po di tutti i colori è esagerato sinceramente questo questo senso di onnipotenza che deriva dalla sua classe dalla sua abilità dovrebbe essere un po calmato da dall'organizzazione dalle regole dal da quelli che gestiscono lo sport perché non è giusto che lui possa permettersi di fare quello che fa ha detto che di quello che pensa rossi non gliene frega niente che ora si dice non lo saluterò più da dopo 2015 non ho più rapporti con lui però ci dicevamo ciao adesso non lo voglio nemmeno vedere glielo dirò diceva che poi quando è andato con pulce il suo manager a a fare delle pubbliche scuse davanti al box è stato diciamo mandato via da uccio e lì è mancata un po la presenza ufficiale di yamaha uccio fa parte del team ma della squadra di valentino rossi personale lì c'era l'in jarvis che avrebbe dovuto andare da marquez di riguardo parliamone dopo adesso non è il momento ma insomma rossi ha detto anche se fosse venuto nella mio nel mio container nel mio ufficio e avesse parlato da solo con me già da prima da tempo forse ma oramai quella lì erano solo pubbliche relazioni secondo lui marquez dice che era sincero queste va bene io sono dell'idea che a marquez è stato consentito troppo e quindi lui si senta naturalmente inconsciamente autorizzato a fare a esagerare a fare delle cose che possono capitare perché sei impegnato possono capitarti all'ultimo giro possono capitarti in una rimonta ma non può essere la regola che tu parti quando ti si spegne la moto che insomma fai quello che vuoi butti fuori gli altri nei punti fuori due o tre in una gara sola e prima nelle prove nel warm up insomma è esagerato voglio dire sinceramente sta esagerando è forse sicuramente il più forte che c'è in pista in questo momento ma bisogna che si dia una calmata che rientri un po nel così nell'ambito di quello che è sempre stato il motorsport io non sono uno di quelli che non vuole le sportellate ma c'è a tutto c'è un limite insomma non può diventare uno ti butto fuori perché devo passare io perché anche perché poi non è corretto se tu tocchi uno lo butti fuori perché sbaglio che ma se lo fai più o meno come metodo quello perde due secondi giustamente non riesce a recuperare non può rispondere alla curva successiva non e poi farlo in una pista dove sei così superiore agli altri poteva aspettare la curva successiva senza buttare fuori nessuno insomma un po più di calma un po più di ci vorrebbe un po di severità con questo ragazzino così come dire arrogante con il senso sportivo con gli altri vabbè detto questo punto diciamo che è stata una gara che pedrosa è caduto per un contatto all'inizio proprio con zarco marquez ha avuto tutte queste vicissitudini poi era arrivato quinto ma stati gli sono stati dati 30 secondi di penalizzazione per guida pericolosa per l'incidente con valentino quindi è andato è arrivato alla fine diciottesimo ma non ha preso punti quindi alla fine è data bene ad ovizioso che con un sesto posto diciamo mantiene la seconda posizione nel mondiale primo sia in gara che in classifica e craccio con 38 punti contro il 35 terzo zarco 28 vignales 21 marquez 20 miller petrucci rossi con 16 allora ha vinto craccio perché la onda su questo circuito era evidentemente superiore zarco ha portato la sua yamaha clienti sul podio ha fatto una gara eccezionale alex rins ha rischiato addirittura di vincere sta dimostrando di essere il migliore dei due piloti suzuki purtroppo per iannone rins dopo l'incidente l'anno scorso è maturato migliorato e la sta guidando meglio del nostro andrea jack miller ha lottato è stato lì comunque arrivato quarto a quattro secondi dal primo è stata una grande gara per lui e poi vignale a 14 secondi dovizioso a 22 tantissimi è malissimo pure lorenzo quindicesimo a 42 secondi dal primo a 20 secondi da dovizioso la la ducati soffre in questi circuiti dove ci sono tante curve di percorrenza e quindi come un po philippa e la come probabilmente sarà anche austin fra 15 giorni vedremo cosa dire peccato perché sarebbe stato bello parlare soltanto di sport e invece parliamo ancora di una inemicizia che ormai è diventata un odio palese e non sarà ricucito e questi sono i due due luci più brillanti di tutto il movimento motociclistico mondiale e non è bello che si sia arrivati a questi punti la responsabilità principale c'è la si marquez ma anche chi non ha saputo prevedere vedere e reprimere certi comportamenti quindi secondo me ha ragione vale a dire che non è che non si sente come dire garantito dalla direzione del corso perché la direzione corso non ha fatto mai niente per cercare di limitare quest'aspetto del carattere di marquez io non odio marquez non sono assolutamente o per partito preso un anti marquez ma oggi ha fatto veramente tutto quello che non si deve fare non esiste che poi non abbia lo dica a me quello che pensa rossi e non mi interessa insomma non esiste solo lui né al mondo né nel mondo delle corse perché come con rossi anche con lui le corse c'erano prima ci saranno anche dopo quindi mark rientra un po nel nei canoni che così ci divertiamo tutti un po di più adesso poi in un altro pezzo parliamo delle grandi vittorie italiane in moto 2 e moto 3